Colpo ad effetto dell'Agostino Lettieri. Giallo-Blu hanno ingaggiato il pivot classe 1991 Nunzio Galeota Fiore. Il calcettista, sovrannominato il killer per il suo grande fiuto sottoporta, è un elemento di spessore che sarà a disposizione dello staff tecnico già nella sfida casalinga di oggi pomeriggio contro il futsal guadagno. Galeota Fiore ha nel proprio curriculum una lunga esperienza col Cus Savellino in Serie C1, di cui è stata una delle bandiere per diverse stagioni, realizzando pure 54 reti nella stessa annata. Nella sua carriera anche un'esperienza con la Sandra Bate nel 2016. Il Cus Savellino ha invece tesserato tre elementi. Alla corte dei Biancoverdi sono arrivati i calcettisti Giovanni Pacilio, Nicolas Pacilio e Paolo Cuccinillo. Per Giovanni e Nicolas si tratta di un ritorno. Il primo, classe 99, ha militato nelle ultime due stagioni con il roster Irpino, ottenendo nella prima esperienza la promozione in Serie C1. Il secondo, anche egli, classe 99, ha fatto parte nella precedente stagione del team Biancoverde. Paolo Cuccinillo invece arriva dal settore giovanile dell'FC Avellino. Nelle ultime due stagioni ha militato con il Città di Avellino in eccellenza.